Ciao ragazzi, benvenuti a un crimine al giorno che in realtà oggi nella giornata di 20 marzo come avete visto nell'anteprima è doppio, abbiamo un bonus perché nella giornata del 20 marzo a distanza di 7 anni rispettivamente nel 1979 e nel 1986 sono successi due fatti che in realtà vengono ancora considerati, debbono essere considerati casi aperti, due fatti che riguardano due in realtà celebrità e che hanno coinvolto a processo una marea di altre celebrità che ovviamente non hanno trovato alcun tipo di condanna né si è riusciti a trovare anche soltanto dei piccoli legami con quelli che oggi sono considerati i probabili mandanti e insomma coloro che volevano la morte di queste due persone, persone che adesso quando vedrete ve li mostro in scheda saprete benissimo di chi stiamo parlando, però due eccezionalità di questa vita democratica ecco del paese che ha avuto una sovrapposizione di interessi così dire politico massonici mafiosi nel nostro paese che insomma nessuno può può negare nel 2024 come probabilmente neanche nel tempo in cui sono stati commessi. se andiamo immediatamente a vedere le schede perché oggi sono due, la prima scheda 1979 20 marzo in via Orazio a Roma attorno alle 21.20 cade sul terreno un personaggio che con il suo giornalismo d'inchiesta e giornalismo dietro le quinte Carmine Pecorelli detto Mino di anni 50 aveva sicuramente messo in difficoltà il milieu politico e massonico del tempo in maniera diciamo inusitata sicuramente unica rispetto alla storia del giornalismo italiano. cadde con quattro colpi d'arma da fuoco, una pistola calibro 7.65, queste due schede avranno in comune delle diciture per sospetti e movente che sono veramente incredibili perché vedete che vi ho indicato che i sospetti non vi è nessun esecutore materiale specifico, vari possibili mandanti, ovviamente la maniera in cui Mino Pecorelli si approcciava al descrivere la politica dei maggiori partiti italiani e in particolare di ciò che veniva fatto dalla DC e in particolare da Giulio Andreotti ovviamente così come gli esponenti del Partito Comunista che è risultato poi dopo anni essere decisamente un partito economicamente forte poiché è supportato dall'Unione Sovietica che aveva una macchina di controllo della stampa non sicuramente inferiore rispetto ad altri partiti in Italia, sicuramente superiore ad altri cosiddetti partiti di opposizione e il movente non determinato ma io l'ho indicato come un incontro di interessi massonico-politico mafiosi. Viene anche indicato Mino Pecorelli come appartenente alla loggia P2 che avrà una marea di aderenti fra cui ovviamente alcuni degli stessi possibili mandanti dell'omicidio di Mino Pecorelli che stava lavorando a qualcosa che non è mai effettivamente emerso nelle ultime in quella famosa ultima edizione del suo giornale personale appena prima della morte che potevano riguardare insomma questioni relativi ai compromessi piuttosto che i legami fra lo IOR e la gestione economica della mafia di Cosa Nostra scusate così come eventualmente la gestione stessa della chiarissima politica della tensione che veniva applicata oramai da anni per distruggere completamente le posizioni diciamo avverse al cosiddetto regime democratico e centralizzare il controllo sta di fatto che nel 1979 alle 21 e 20 Mino Pecorelli cadde un quattro colpi d'arma da fuoco e io ho messo colpevole in atteggio di giudizio bisognerebbe in realtà dire colpevole in da ricercarsi ancora mai effettivamente individuato ci sono molte strade la cosa estremamente interessante è la maniera in cui lo stesso Giulio Andreotti ha reagito al film che riguarda la sua vita è insomma il film Il Divo film piuttosto celebre e stranamente rispetto a quello che è stato il contegno dell'onorevole Giulio Andreotti durante tutta la sua vita di segreti probabilmente qualcosa di interessante c'è riguardo a questa questione in particolare per la reazione decisamente scocciata che Giulio Andreotti ha avuto all'uscita del film e anche in particolare alla maniera in cui viene descritta insomma la chiusura della bocca di Mino Pecorelli nel 1979 ma curiosamente lo stesso giorno sette anni dopo adesso andiamo a vedere la seconda scheda che vi ho preparato curiosamente il 20 marzo quindi stesso giorno di sette anni dopo 1986 nel carcere di massima sicurezza di Voghera alla mattina presto tra le 8 e le 8 e 5 il cosiddetto banchiere della mafia ma in realtà banchiere un po' di tutti in quegli ambienti Michele Sindona che sicuramente si era occupato di gestire alcuni dei conti che poi vennero fatti risalire a Pippo Calò quindi personaggio di Cosa Nostra siciliana nato all'interno degli schieramenti anti-corleonesi ma poi ovviamente passato ai corleonesi in maniera corleonesi intesi come schieramento passato in maniera molto veloce sia per una questione di gestione dei danari sia per una questione di mantenere la propria vita intatta Pippo Calò sta di fatto che Michele Sindona anni 66 con nessun testimone oculare al momento andò in bagno bebbe questo caffè e ne uscì urlando mi hanno avvelenato mi hanno avvelenato e vennero ritrovati in proporzione al liquido più di 150 milligrammi di cianuro aggiunto al caffè Corattini ne fece una bellissima una bellissima vignetta in cui si vedeva insomma questa simpatica tazzina di caffè con la faccia di Giulio Andreotti ancora una volta testimonio oculare in nessuno i sospetti e i moventi come vedete nessun esecutore materiale specifico anche qui i vari possibili mandanti non determinato il movente incontro di interessi massonico politico mafiosi se non era specificato non era stato chiarito l'appartenenza alla P2 da parte di Mino Pecorelli per quanto riguarda il fatto prima sicuramente Michele Sindona invece faceva parte della loggia massonica P2 con Licio Gelli e con tutti gli altri fino a far corso oggi a Silvio Berlusconi il fu oramai Silvio Berlusconi e una marea di altre personcine di questa nostra bella Italia ovviamente per tutti questi fatti fu interrogato e fu chiamato anche a processo per quanto concerne i fatti mafiosi Giulio Andreotti che pare essere la persona che probabilmente si è portato nella tomba più segreti di tutti in Italia ma entrambi questi due casi vengono considerati e probabilmente ho il timore che in Italia verranno considerati casi aperti per chissà quanto con il 20 marzo a un crimine al giorno abbiamo finito oggi abbiamo fatto il bonus ci vediamo domani 21 marzo alla botteguccia dei Sicilli con un'altra pillola di crimine per voi grazie a tutti